Concludo dicendo questo, che l'edizione di quest'anno vedrà oltre 50 eventi nell'ambito dell'albo sul monte nel sito dell'UNESCO, abbiamo altre rappresentazioni e momenti culturali a Serravalle con un film, a Chiesa Nuova con un altro film sempre legato alla cinematografia sanmarinese, a Paetano, Centro Ristoro, un aperitivo a Montegardino, nella giornata del sabato, all'Acquamino abbiamo convolto la nostra biblioteca, a Fiorentino l'associazione degli argentini di San Marino fa una serata particolare di tango e asano. Quindi, questi sono alcuni eventi in cui... Adesso arriviamo, no? Ecco, non si può organizzare? No, adesso non diciamo tutto. Allora, anche quest'anno dobbiamo dire grazie alla collaborazione di realtà importanti, che collaborano con noi, ma più che altro collaborano per promuovere l'iniziativa. Quindi, promuovere l'iniziativa, nel senso che informeranno i loro iscritti, i loro città moderenti alla partecipazione e al sostegno di questi eventi.